Dipende il pacco? Si, il pacco Scopa? Si Ci ho a Pokemon No 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 E ora? Tocca a me No, tocca a me Si, ma però te c'hai un culo assurdo eh Che cazzo, non è possibile Ma si è iniziato ora, cioè, che cazzo Questo non ti vale? 8 Bene Eeeh, quindi la sede No, basta No, 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 no Mi faccio a bersette bello Ma stai scherzando? I'm joking No, no, no C'è cosa penso anch'io Sei proprio un campione, vero? Si, allora, però non è possibile, ragazzi Un'affare e ossione è possibile Che culo Eeeh 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 Grazie Fa' un culo Che di cazzo ha un 5 Ce l'hai? Ce l'hai un 8? Eeeh 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 Vaffanculo, ho fatto 5 mattoni, ho fatto qua, siamo qua 3 a 0 No, torna qui, torna qui Chiudi la porta per bene Zuzuzurro Vabbè, non ti ho rifeso la faccia Bello per gli spettatori E ora andiamo a fare No, fatti la foto al uccello Mi prendi il uccello